La brava Gianna Nannini ieri 7 maggio 2016 sarebbe caduta a Montecatini, sarebbe caduta in fase di riscaldamento pochi minuti prima del concerto. Si sarebbe fatta mare al bacino, ma anche c'è da dire che avrebbe fatto un concerto al bacio, grazie a Montecatini. Insomma, sarebbe stata la stessa famosa cantante a raccontare nel proprio profilo social di Facebook il perché avrebbe cantato seduto durante il concerto di Montecatini. Il post poi sarebbe stato accompagnato da una sua immagine di lei seduta a piano. Tanti commenti da parte degli ammiratori nei social in cui le hanno fatto i complimenti per il bel concerto e l'avrebbero chiesto però come sta adesso. Insomma, questa è la situazione. Vi ringrazio per l'ascolto. Questo video non vuole leggere la frase di Gianna Nannini, vuole solo informare eventuali persone di questa situazione che purtroppo ne sarebbe capitata nel rispetto degli altri. Grazie.